tu hai visto tutto quello che avevi creato o signore e tutto era buono assai ed anche noi lo vediamo ed è buono assai per ogni specie di essere creato in seguito quando dopo il tuo ordine di esistere esistevano anche allora hai visto che questo e quello erano buoni io trovo scritto sette volte che tutto quello che avevi fatto era buono l'ottava volta tu avevi visto l'universalità di quanto avevi fatto ed ecco che non si dice più buone ma buone assai la stessa cosa avviene anche per un bel corpo qualsiasi è molto più bello quel corpo costituito da più belle parti che non le parti prese ad una ad una l'insieme risulta compiuto dalla loro armoniosa unione anche se sono belle prese singolarmente grazie